Per tutti è e sarà sempre l'astronave, ma ora il nome di battesimo ufficiale del Palasport di Pesaro è Vitri Frigo Arena. Sotto una pioggia battente domenica scorsa lo stesso Alceste Vitri insieme al sindaco Matteo Ricci ha svelato la nuova insegna frutto dell'accordo tra il Colosso del Freddo, l'Aspes che gestisce l'impianto, il Comune di Pesaro e la Vittoria Libertas. Un connubio fortunato considerando che la VL ha subito vinto la partita in casa con Bologna durante il VL Day. Il gruppo guidato da Vitri è un partner solido e di prestigio che dà lavoro a 1300 famiglie e comprende marche come Rivacold, azienda leader nella costruzione di impianti per la refrigerazione industriale e commerciale, Vitri Frigo che produce frigoriferi professionali per nautica, orecca e trasporto, RAV che è la rete di distribuzione di componentistica e prodotti per la refrigerazione, oltre a una serie di consociate estere che ne curano lo sviluppo al di fuori del paese. L'astronave è stata inaugurata nel 1996 con un'indimenticabile esibizione di Luciano Pavarotti e durante la sua storia ha ospitato decine di eventi di rilevanza internazionale, dallo sport alla musica, dal teatro alle convention, diventando anche la casa del ROF. In oltre vent'anni di attività, sulle sue tribune sono passate oltre 7 milioni di persone. Per molti si tratta dell'impianto sportivo indoor più bello d'Italia, può ospitare 10.323 spettatori seduto e 2.000 nel parterre per un'estensione di 12.000 metri quadrati. È un matrimonio importante perché si uniscono due, anzi tre eccellenze del nostro territorio che promuovono la nostra città, producono economia, insomma è un grandissimo livello. L'arena è uno dei palazzi dello sport più belli d'Italia, per me il più bello, per noi il più bello sicuramente, il gruppo Vitrifrigo è un gruppo che produce e sport in tutti i paesi del mondo. La VL nello sport cittadino è la squadra che in qualche modo ci rappresenta, quest'anno almeno al momento ci sta dando anche qualche soddisfazione e quindi questo matrimonio, un matrimonio che durerà tre anni ma potrebbe essere anche l'inizio di un sodalizio anche molto più lungo e quindi grande festa e oggi speriamo che i colori bianco-rossi quando è la fine dopo la vittoria della VIS possano gioire anche all'interno dell'arena.